E' prima nel giro nella Francia, l'Italia perde contro i padroni di casa, 3-1, Andante affronterà agli ottavi, dentro fuori la Turchia, terza della Polcì, l'analisi di Simone Giannelli. Cosa si può prendere di buono da questa partita? Ma guarda, si prendono tante cose dalle vittorie, tante cose sconfitte. Oggi non abbiamo giocato bene, loro hanno giocato meglio e quindi hanno meritato la vittoria. Dobbiamo vedere la partita e cercare di migliorare in certe cose che possiamo e vogliamo fare meglio. Abbiamo sprecato dei palloni, non siamo ludiciti a fare quello che volevamo in certe occasioni, però è una sconfitta che dobbiamo rendere costruttiva. Ci sarà da pensare alla Francia, ci sono degli ottavi importanti perché l'Italia comunque adesso giocherà una sfida dentro fuori e soprattutto non andrà in Slovenia a giocare a Nante. Sì, adesso ci sarà da pensare solo e esclusivamente agli ottavi, come tutti quanti, perché tutti quanti giocheranno agli ottavi. Quindi pensiamo a questa sfida qua che è dentro fuori, quindi sempre difficile, secca. Dovremmo andare dentro in campo e giocare la nostra miglior paravolo. L'Italia comunque ha dimostrato di essere allo stesso livello della Francia, di essere una squadra che ha tante armi da giocarsi in questo europeo. Sì, stesso livello, oggi no. Ha dimostrato loro di essere più bravi a giocarla in questo momento. Quindi oggi è dimostrato questo, insomma, quindi dobbiamo essere realistici, cercare di crescere tutti insieme per la prossima partita e poi speriamo di arrivare più avanti possibile.